Sette persone sono state arrestate questa mattina nell'ambito di un'operazione condotta dai carabinieri del ROS che ha visto coinvolti i comandi provinciali di Nuoro, Restano, Reggio Calabria e dello squadrone heliportato cacciatori di Sardegna. I militari del ROS hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone accusate di associazione finalizzata al traffico di droga e per numerosi episodi di spaccio. Uno stretto legame tra la Sardegna e l'Andrangheta calabrese per il traffico di cocaina, in particolare tra gli arrestati i calabresi Tutti di San Luca, Antonio Strangio di 63 anni, Giuseppe De Luca di 64 anni già detenuto perché sorpreso con 5 kg di cocaina al porto di Olbia e Sebastiano Ficara di 36 anni. I sette sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Le indagini sono partite nel 2017 e si sono concentrate prima sulla figura di Francesco Porcu, personaggio già noto alle forze dell'ordine in Sardegna. Un lavoro investigativo che ha consentito di scoprire collegamenti di Porcu con i personaggi legati alle endrine calabresi. Successivamente all'attenzione degli specialisti dell'arma si è spostato su Silvano Murgia, sposato con la sorella di Antonio Strangio. I carabinieri del ROS hanno così ricostruito tra il 2019 e il 2020 numerosi viaggi tra Calabria e Sardegna, durante i quali sono stati trasportati complessivamente una ventina di chili di cocaina. Il culmine dell'attività di indagine è arrivato nel maggio del 2019 con l'arresto di De Luca bloccato al porto di Olbia mentre trasportava 5 kg di stupefacenti e ad agosto del 2020 con il sequestro di 500.000 euro a Salvatore Innocenti. Il denaro sarebbe servito a pagare una delle partite di cocaina. I trasporti di denaro e cocaina venivano pianificati nel dettaglio e si utilizzavano due auto. In una, come successo a maggio del 2019, c'era Giuseppe De Luca con a bordo il figlio minorenne che viaggiava con lui per non destare sospetti. Nell'altra Antonio Strangio e Sebastiano Ficara. Venivano scelti appositamente porti di partenza e arrivo diversi per evitare di cadere nella rete degli investigatori. La droga veniva smerciata sia nel morese che nell'oristanese ma anche nella piazza caglieritana. I traffici di droga sono il business criminale fondamentale per comprendere il movimento delle organizzazioni in Italia e all'estero, ha detto il vice comandante nazionale del ROS, il colonnello Gianluca Valerio. La droga è diventata ormai un linguaggio su cui poggiano gli interessi delle organizzazioni criminali che crea sinergie proprio come in questo caso.